Grazie, Presidente. Bene, noi accogliamo con favore la relazione della collega Heidi Autola, che è un lavoro ben fatto e che sicuramente voteremo a favore. È chiaro, come hanno già sottolineato la gran parte dei colleghi, che quando parliamo di un tema di un'importanza fondamentale, come quello della sottrazione dei minori, stiamo parlando di un argomento prioritario per quelle che devono essere le politiche dell'Unione Europea. Il benessere psicofisico dei minori deve essere al centro delle nostre preoccupazioni e questo è chiaro, specialmente se lo relazioniamo con un cambio che nel mondo c'è rispetto a questa stessa fattispecie, perché è chiaro che la globalizzazione, la facilità con cui si muove, comporta nuovi problemi e il fenomeno della sottrazione è un fenomeno in aumento e questi sono dei dati certi che abbiamo, come è certo che è aumentata anche la tratta dei bambini, per cui accogliamo con favore anche l'allargamento della Convenzione dell'AIA e lavoriamo per una revisione del regolamento di Bruxelles 2 in maniera urgente.